siamo arrivati al titolo nel mirino della settimana e allora il titolo nel mirino della settimana è il seguente lo vediamo già in sovrimpressione in sovrimpressione advanced micro devices una multinazionale statunitense produttrice di semi conduttori con sede in california e parliamo di uno dei leader mondiali nella produzione di cpu per il mercato consumer workstation e server quindi chip grafici eccetera eccetera tecnologia fondamentalmente no enrico e perché questo titolo beh sì tecnologia un titolo super capitalizzato quindi un titolo importante un settore che sulla carenza di microchip e così via se tanto discusso quindi un settore che aveva sofferto e che adesso sembra aver tra virgolette svoltato pensiamo anche stm che ha rilasciato un'ottima trimestrale anche advanced ha rilasciato recentemente una buona una buona trimestrale e quindi c'è proprio un secondo me in versione di trend e l'analisi tecnica sembrerebbe confermarlo io propongo oggi due grafici daily se siamo d'accordo se sei d'accordo manuela possiamo anche partire con il primo eccolo qui mi sembra direi abbastanza evidente un canale ribassista che era presente per tutto il l'anno passato il titolo si è mosso un po proprio come le borse e altrettanto evidente credo sia come da inizio del 2023 il movimento rialzista abbia bucato al rialzo questo canale questo trend discendente e abbia sostanzialmente proprio invertito invertito il trend quindi adesso siamo in un'ottica di cercare un timing il più possibile corretto quindi aspettare ancora magari qualche sessione per cercare di entrare a favore di quello che secondo me perlomeno il trend attuale quindi un nuovo trend rialzista partito da inizio anno io ho messo le tre frecce verdi proprio per indicare che a inizio 2023 quel canale ribassista è stato bucato al rialzo e poi successivamente vediamo in concomitanza con il rilascio della trimestrale c'è questo gap up al rialzo che ha dato proprio la spinta insomma ha confermato secondo me e lo vediamo poi nel secondo grafico ha confermato il l'inversione di trend nel secondo grafico proprio evidenziato in maniera più chiara con una ellissi il gap che ha dato lo strappo rialzista e adesso proprio questa fase di consolidamento degli indici potrebbe riportare anche advanced micro device a un livello di consolidamento di ritraccio andare a chiudere il gap in area 75 dollari quindi un livello supportivo che analisi tecnica vuole che debba essere preso proprio per andare a chiudere il gap e lì secondo me sarebbe un interessante livello di acquisto in ottica di medio periodo quindi un trend che si va a invertire a fine del 2021 il titolo era quasi a 170 dollari quindi riuscire a prenderlo a 75 con una buona probabilità che il trend si sia invertito secondo me può essere un interessante affare e quindi proviamo ad attendere area 75 in chiusura gap 75 dollari per l'acquisto di ambi advanced micro device ok non è un po complicato ma meno complicato se l'analizziamo graficamente tecnicamente con enrico j titolo nel mirino va insieme agli altri quindi potrete rivederlo poi sul nostro canale youtube sarà condiviso anche da enrico insomma e per qualsiasi tipo di informazione aggiuntiva scrivete direttamente a lui e 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